Benvenuti, siamo con Guido Liris, assessore provinciale alla viabilità e candidato al Consiglio Comunale nelle liste del Popolo della Libertà. Liris, il suo nome è stato in ballo per un lungo periodo di tempo nel totosindaco del centrodestra e del Pdl. Dopodiché la scelta è stata quella di non puntare sul rinnovamento e su una forza interna al partito ma di optare per un candidato esterno civico di natura tecnica. Sì, ma forse siete stati i primi voi a fare il nome della possibile candidatura al sindaco della mia persona. C'è stata la possibilità di credere in una candidatura di questo tipo che sarebbe stata comunque accolta, credo con grosso entusiasmo, soprattutto da un target di natura rinnovativa come i giovani in particolar modo e classi imprenditoriali che si affacciano da poco nella vita socio-economica della città. C'erano delle indicazioni importanti che venivano da Roma che richiedevano due target, due profili fondamentali o almeno sui quali poter impiantare un tipo di campagna elettorale efficace per quanto riguarda il centrodestra. Era o il profilo giovane o il profilo tecnico. Come sapete benissimo, la scelta è ricaduta sul secondo profilo, nonostante comunque fosse stata quotata abbastanza bene anche la mia candidatura. Sì, il fatto di questa scelta e le primarie mancate, soprattutto, hanno creato numerose defezioni all'interno dello schieramento di centrodestra. Lei invece, nonostante la scelta poi sia caduta su Propersi, ha deciso di rilanciare e di candidarsi, quindi di combattere la battaglia direttamente all'interno del partito. Io credo fortemente, forse per la tradizione e per l'espressione culturale da cui provengo, nella formazione politica e soprattutto nella formazione partitica. Il partito è un valore lì dove chiaramente deve servire come camera di compensazione di tante situazioni che probabilmente andrebbero gestite e vanno gestite all'interno di alcune stanze senza probabilmente andare all'esterno a pulire i panni sporchi al di fuori delle proprie stanze e dei propri ambienti. Così, se c'è qualcosa che non vava espresso all'interno del proprio partito, è questa una delle funzioni del partito. Sono un assessore provincia del PDL, per me è stato lineare di default essere candidato e dare una mano importante, spero di dare una mano importante, a servizio del PDL e delle scelte che sono state fatte dal PDL. Non mi sento di gettare la croce addosso che era pesante, a tante defezioni, a alcune defezioni, ma comunque biasimo la scelta di chi sceglie un'altra strada rispetto al partito dove chiaramente si è fatto un congresso da poco tempo e quindi un tesseramento che significa già attivismo, che significa già mobilitazione sociale. Il popolo, la gente, la gente comune non capisce le fuoriuscite come queste, soprattutto dopo un congresso che ha avuto un corriscontro positivo con tanti tesserati. Quindi vedere dei tesserati che due settimane dopo un congresso dove sono andati a dare la loro preferenza escono dal partito, diciamo che questo è uno dei motivi per cui la gente non capisce e poi man mano, man mano nel tempo si stacca dalla politica. Lei fra le deleghe che ha in provincia ha anche quella dello sport. Lo sport ha rappresentato un problema ma anche rappresenterà un'opportunità per il territorio colpito dal terremoto. È vero che è il comune ad avere la delega sulla maggior parte degli impianti sportivi del territorio, quanto c'è ancora da fare? Lo sport, soprattutto alla luce del decadimento, della distruzione sociale che c'è stata all'indomani del terremoto, è risultato uno dei punti più importanti da cui ripartire per la ricostruzione non soltanto sociale, economica, ma anche psicologica della città dell'Aquila. È un vero ammortizzatore sociale su cui pontare oggi e devo dire la sincera verità con il comune dell'Aquila, in particolar modo con l'assessore Arduini, tanti sono stati gli incontri e tante sono state le condivisioni dei percorsi da fare. Evidentemente la protezione civile, l'ufficio regionale del territorio parla con il comune e non potrebbe fare altrimenti perché gli impianti sono le proprietà del comune, ma diciamo che i percorsi sono stati decisi assieme e soprattutto la valorizzazione di quegli impianti sportivi che erano sede di Tendopoli e che adesso devono essere istituiti alle società di calcio che li gestivano perché rappresentano veramente uno sfogo sociale importante, un'opportunità sociale di ritessere comunità giovanili importanti deve essere un obiettivo da cogliere tutti insieme e abbiamo già visto in tante e tante occasioni che gli obiettivi si lavorano insieme soltanto quando c'è sinergia istituzionale. Abbiamo dimostrato per quanto riguarda lo sport di avere la capacità di fare sinergia. Lei viene da un territorio che è quello delle frazioni, su cui è concentrata molta attenzione, non fosse altro perché sono diventati territori recettori di tutta quella popolazione che è dovuta andare via dalle proprie case, in particolar modo dal centro storico. Quanto è importante il ruolo delle frazioni e quanto secondo lei la nuova amministrazione dovrà fare per riaggregare tutto il territorio comunale dell'Aquila? La frazione è una dimostrazione di come in maniera più snella si possa ritornare alla vita di tutti i giorni. C'è uno slogan che io spesso uso quando parlo dalle mie parti e ricordo come anche negli ultimi terremoti, nei terremoti storici sono state sempre le frazioni aver ricostruito poi la città dell'Aquila, purtroppo è già accaduto nel corso dei secoli scorsi. La città non è l'unico centro storico, parliamo di centri storici anche all'interno delle frazioni dove ci sono delle comunità che lavorano, che costruiscono e che hanno una loro identità. Ripartire da queste piccole identità sarebbe già tantissimo e avrà la capacità chiaramente di essere più funzionale alla ricostruzione della città stessa. Ripartire dalle frazioni per ricostruire il centro storico è un dovere. Forse l'amministrazione che è uscente in questo momento si è dedicata poco alle frazioni, probabilmente concentrandosi molto di più forse anche per la portata mediatica al centro storico dell'Aquila, ma non è soltanto il centro storico dell'Aquila, è tutto un ripensamento urbanistico che viene fuori dal terremoto e da tutto quello che è successo il 6 aprile che deve essere rivisto. Quindi ripartendo alle frazioni. Grazie.